Ciao a tutti amici, benvenuti in questo tutorial. Oggi vi faccio vedere come aumentare la produttività con Instagram. Sappiamo benissimo che Instagram è un'applicazione da cellulare, sta diventando uno dei social network più importanti, sta superando quasi Facebook, anche se Facebook e Instagram è la stessa compagnia. Il problema di Instagram è che non ha un'applicazione sua da desktop, quindi dovete fare tutto tramite cellulare, a meno che avete questo bellissimo software che si chiama Flume. Ho messo il link nella descrizione e guardatelo tutti. Facciamo subito un tutorial di Flume perché veramente è il top, è veramente una delle applicazioni che Instagram avrebbe dovuto fare già da tempo. Allora lo lanciamo, questo qua è Flume, l'ho messo qua a destra del nostro account di Instagram, venite tutti, iscrivetevi anche. Sono stato a Daytona la scorsa settimana per il Bike Week, ma entriamo subito nel vivo, facciamo vedere Flume, Flume è qua. Abbiamo tutte le funzioni che potete fare da cellulare, come anche creare dei carousel, potete mettere le foto, potete scrollare le foto, potete vedere chi vi è piaciuto, le notifiche, insomma tutto. Potete anche caricare le foto, dovete avere la versione Pro del plugin che comunque costa solo 10 dollari. Io infatti appena l'ho scoperto questa cosa l'ho fatto subito perché scusa, che cavolo ti serve avere questo programma su Dextro se non puoi caricare le foto? E' proprio lì il bello. Perché questo? Perché stando da Dextro, stando dal computer, avete la possibilità di scrivere bene. Io dal cellulare non è che mi piace molto scrivere. Quindi facciamo subito una prova. Allora, ho caricato dal cellulare questo carousel, merchandising che c'era la festa, però siccome dal cellulare non ho voglia di inserire i tag, questo e quest'altro, e abbiamo qui i nostri tag apposta. Quindi andiamo qui, se andiamo in carousel, andiamo qua nelle opzioni Edit Carousel e lo schiaffiamo qui, i nostri bellissimi tag. Merchandise by week in Daytona. Arlene Davidson, vabbè, non c'è, ma noi lo tagliamo lo stesso. Save. Ok, perfetto. Adesso molte, molte più persone ci seguiranno. Poi vediamo, carichiamo una foto. Schiacciamo l'opzione per caricare. Prendiamo una delle nostre bellissime foto. Vediamo un po' queste. Le ho già messe. Questo mi sembra che non l'ho messa. Ne ho messa una, l'ho messa di... Sì, ho messo questa, ne ho messo l'altra. Questa è un po' sfocata, però è bella, perché dà il senso del movimento. La inseriamo qua. Mettiamo sempre i nostri tag. Tac. Apposta. Abbiamo funzioni per cropparle, per mettergli i colori, ma siccome io le ho già spattaccate un po' da Lightroom con la mia fotocamera, diciamo che al massimo gli potrei mettere un filtrino, ma neanche niente, lasciarle un po' così, normale. Possiamo, questo cos'è, taggare amici. Taggare le persone, ok. Possiamo croppare. Questo cos'è? Ah, l'autoshare. Interessante, interessante. Mettiamo Twitter, ok. Ah, ecco, perché questa è una funzione che non mi veniva, l'altro giorno non avevo visto che c'è l'opzione. Ok, salvami queste. Ci sono anche delle options, commenti off, non ci interessa. Ok, ah, la caption, ovviamente. Copiamo la nostra, comodissimo. E, postiamo. Olè, fatto. Se adesso noi andiamo nel nostro Instagram, abbiamo la nostra bellissima foto. Olè, perfetto. Fusi tag, a posto. Abbiamo il nostro carosello. Merchandising, molto belli. E va bene, questo è quanto per Instagram. Tantissime funzioni che adesso non sono entrate in dettaglio. Anche a livello di impostazioni. Possiamo utilizzare Instagram personale o business. Insomma, è proprio come se fosse l'Instagram, l'applicazione ufficiale, però sul Mac. In questo caso Mac, non so se c'è il più PC. Ho messo il link nella descrizione. Dateci uno sguardo. E ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!